Nante e Davide hanno insieme 198 anni, 9 novembre 1920, 30 maggio 1922, le loro date di nascita. Abitano il primo a Rughi, il secondo al Piagione, che sono due frazioni poco distanti dei due comuni di Porcari e di Lucca e le loro vite si sono incrociate brevemente in terra jugoslava agli inizi degli anni 40. Giovani soldati di leva sono partiti con centinaia di migliaia di altri per la guerra scatenata da Hitler e alla quale nel giugno 1940 Mussolini si è accodato. Catturati dai tedeschi all'indomani dell'8 settembre 1943 e internati nei lager vivono terribili esperienze parallele. Si salvano, tornano a casa, ma quella loro storia rimane chiusa in loro. Non la raccontano, non si sentono eroi e la guerra del resto ha abituato a scenari estremi. Ma tutte e due hanno una memoria formidabile. Dante ha conservato anche un piccolo diario manoscritto di quei giorni. Le iniziative pubbliche sulla memoria nell'ultimo decennio sono state l'occasione per riportare alla luce il loro racconto. Dante e Davide si sono conosciuti, ma dovremmo dire riconosciuti, ormai ultranovantenni e ognuno è per l'altro, è diventato per l'altro l'amico ritrovato. Istituzioni, stampa, media, locali, scrittori, registi, amici, come vedremo nella parte finale, si sono interessati a loro e hanno contribuito a restituire alla comunità la loro storia. Davide, classe 1922, nasce in una famiglia di mezz'arri del piagione. Lo chiamano alle armi nel 1941, nel treggimento artiglieria da campagna che a distanza a Bologna. Da Bari raggiunge la Dalmazia con la divisione Emilia nel 1943. Dopo l'8 settembre del 43 è in Montenegro. Anche il suo reparto combatte contro l'ex alleato tedesco. Fatto prigioniero, Davide è portato a Zara e, come molti altri, anche a lui viene offerta la possibilità di tornare in Italia arruolandosi con le SS o nel ricostituendo esercito del fascismo repubblicano. Davide ha chiare le conseguenze del suo rifiuto, ma lo sceglie senza tentennamenti. Così, dopo un trasporto di tre o quattro giorni, in condizioni bestiali, finisce in un campo vicino a Buchenwald, che ospita etnie diverse, tra cui ebrei e russi. I suoi effetti personali sono sequestrati, mentre la visione dell'orrore si manifesta. Cadaveri caricati sui camion, portati ai forni, le ciminiere che fumano. Insomma, dopo una ventina di giorni, Davide viene trasferito in uno stabilimento per la produzione di zucchero dalle barbabietole. Esponenti di Salò chiedono per mesi di firmare l'adesione alla Repubblica Sociale, promettendo il rimpatrio. Vicino alle baracche c'è una cassetta. Si può deporre l'adesione scritta con un semplice gesto, ma la risposta è un rifiuto persistente. E alla fine i no complessivi saranno circa 650.000 sugli 810.000 militari che si stima siano stati catturati. Come Dante, anche Davide deve sopportare i morsi divoranti della fame. Un minestrone di cavolo, le patate, un pane nero da dividere ogni 10 persone. Si aiuta con lo zucchero. Non so come ha fatto a non prendere il diabete, dice sorridendo quando lo racconta. Ma il tormento maggiore è l'ansia di far sapere ai suoi che si è salvato. Ha una trovata da contadino astuto. È lui. È lui che deve apporre destinazioni e indirizzi su sacchi di juta pieni di zucchero. In base alla destinazione confeziona biglietti che indicano i nomi dei compagni, il nome del campo, la notizia che sono vivi. E la trovata funziona. Uno di questi biglietti giunge da Modena alla madre di Davide. Ma dopo sei mesi Davide è trasferito in una fabbrica dove si montano i famosi V1 e poi V2, l'arma segreta, le bombe volanti della Luftwaffe. Rimane lì fino al 1945. L'ultimo spostamento è programmato a Berlino, dove i tedeschi intendono usare i prigionieri come scudi umani contro le bombe degli alleati. Dopo una rocambolesca fuga notturna si trova con altri nel bel mezzo di un terribile scontro a fuoco tra americani e tedeschi. Si salva insieme a altri compagni nascondendosi in un canale. Soltanto la testa fuori dall'acqua fino alla fine del combattimento. Con mezzi di fortuna raggiunge il Brennero, poi in quarantena a Bologna come chiunque arriva dalla Germania. E di lì su un vagone fino a Fornaci di Barga e da Lucca, senza un soldo e ridotta a 38 chili, arriva al piagione. E così l'interminabile odissea anche per Davide è finita. Davide sposerà Bruna, che gli darà tre figlie, ma quegli anni restano tatuati nella sua memoria. Quella di Dante e Davide è una storia a lieto fine. Ma la durezza della loro condizione tra sfruttamento e sterminio, il sacrificio di quei non ripetuti, a dirlo è il prezzo di oltre 50.000 vite stroncate, di cui la metà circa per inedia e malettia. E a esse va aggiunto, come conseguenza dell'Ager, l'altissimo numero di decessi di malati dopo il rientro in Italia. Tornati in patria, Limi hanno trovato una società diffidente e una storiografia disattenta. Molti si sono chiusi nel silenzio, solo pochi di essi si sono associati. Una lacuna che si sta accolmando, con le difficoltà poste dalla distanza di quasi 80 anni da allora. E tuttavia testimonianze, documenti e inediti sono forse ancora rintracciabili. L'Istituto storico nella Resistenza dell'età contemporanea di Lucca a questo proposito rivolge un appello a chi pensa, chiunque pensi, di poter dare un contributo in questo senso. I racconti di Dante e di Davide hanno trovato importanti momenti di valorizzazione. La presentazione del libro che raccoglie parti del diario e dei ricordi di Dante, il docufilm di Roberto Carli, presentato a Lucca nel giugno del 2009. Le interviste rilasciate alle rite cercatrici Tony Rovatti e Roberta Mira dell'Università di Padova. Insieme alla provincia e ai consigli comunali di Lucca e Porcari, l'ISREC di Lucca ha voluto dedicare a Dante Unti e a Davide Masei il giorno della memoria 2020. Perché per entrambi non si tratta soltanto di una storia di grandi sofferenze, ma anche, come per moltissimi internati militari italiani, di una storia di coraggio, di riscatto, di rifiuto del fascismo. Quindi una storia comune di resistenza che si affianca a pieno titolo alla resistenza armata dei partigiani, dei civili, dei religiosi, delle donne. Grazie a tutti.